Se no ti sposti a schiacciare, non per niente, alle guardie di un guardacolto, ti schiacciare. Si viene la guardia fino a qua fuori. Si, scatteremo in mano. No, è scattato per un dimenticato. Scusate, scusate, scusate. Scusate. Viene qua la guardia ora. Ma non si può fare, Vittorio? Certo si può fare. Ora vengono le guardie, guarda. Ah, io continuo. Si vengono qua la guardia, vengono i bandrini. Se lo vengono qua la guardia, vengono le guardia. Vengono la guardia. Non si vuoi, non mi c'è. Si ce capisce? No, dai, dai. Quasi si scherza come pita, non è già. Non si suoi. Si velle? Si vuoi vedere. Sì, sì, sì. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.